Fede, ascolta, risolvimi quest'enigma. Vai, c'è un problema. Allora, hai poco tempo, poca voglia di allenarti, poco spazio per allenarti, ma una gran voglia di avere un enorme risultato. Che tipo di allenamento si può fare? Ce l'ho. Ce l'hai? Ce l'ho. E allora fammelo fare, perché è l'allenamento ideale di oggi. Andiamo. Bene, allora nel video di oggi faremo un circuito della durata maxi di 8 minuti. Questo circuito sarà composto da 8 esercizi e quindi, visto che siamo bravissimi in matematica, ciò significa che ogni esercizio durerà un minuto. Tutti gli 8 esercizi saranno finalizzati ad allenare le gambe e l'addome. Esatto. Alterneremo un esercizio per le gambe e subito dopo uno per l'addome, continuando ad alternarli per tutta la durata del circuito. Non ti spieghiamo nessun esercizio, partiamo subito a sprombattuto, non devi far altro che guardare quello che facciamo e ripeterlo tale e quale. 3, 2, 1. Fegui quello che facciamo. Lato destro, via! A fondo laterale, 30 secondi, tutti sulla gamba destra. Quando darò il cambio faremo i successivi 30 secondi sul lato sinistro. Vai, scendi bene. Workout per l'interso oggi. Ovviamente gli esercizi te risparmiamo, che sarà la facendo. 5 secondi. Dai, Viteo. 3, 2, 1. Cambio lato e cambio lato. Vai! Tutti di là. A me cambi lato sempre mi lascia un po'. Un po' di coordinazione. Ma che miseria. Se sei che quel pepe te lo devo dare. Esatto. Se no non mi direi che abbastanza. L'imbarazzo del primo secondo. Esatto. Prendi confidenza. E vado. Vai, vai, vai. Scendi bene giù. Scendi bene giù. Anche 5 secondi e poi cambiamo esercizio. 1, 2, 3. 2, 1, cambio. Cambio lato destro. Ginozio al gomito. Se riesci non appoggiare il piede giù. Attiva bene l'addome. Strizza. Vai, vai, vai. Anche poi quando due il cambio facciamo questa cosa. All'altra parte. Cambio. Cambio. Subito di là. Subito di là. Scega bene. Gli va bene l'addome. Gli va bene. Oh, cado! Corriamo un po' di peggio? Esatto! Forza di tutto il posto. Mi spiego la posta di tutto il posto. Cambio! Gamba destra indietro e torno. Scendo e torno. Fondi posteriore. 30 secondi in più di quel lato destro. Al cambio, indovina un po'. Arriviamo a 30 secondi con lato sinistro. Facciamo due bracci. Esatto! Ancora sui bracci. Guarda sui bracci. Guarda sui bracci. Guarda sui bracci. 5 secondi. 3, 2, 1. Cambia gamba. Guarda. Guarda. 5 secondi in più. 6 secondi. Come cosa è una trincia? Ok, qui alterniamo i lati, quindi la mano tocca il piede opposto. Un minuto tutto così. Esatto, si vede che l'hai progettato tu quest'allenamento, perché proprio non mi entra in testa. Attiva bene l'andome per far salire la banda. Continua, infini 30 secondi sono passati. Nonno, 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 nonno. Mi sembra un po' di ricotta. Un calabrone. Vabbè dai! Pronti a cambiare l'esercizio? Che si fa? Squat e a fondo incrociato. Un squat e di nuovo un incrocio. Un squat e di nuovo l'incrocio. Un squat e di nuovo l'incrocio. Si, eh? A giudicare dai primi due esercizi. Eh, lo so. Probabilmente ora si starà anche ricredendo. Questo workout è una mascherina. parte piano, finisce male. Vai, scendi bene giù. 8 secondi e poi si cambia. Amore! E cambia. in piedi. Sassi in piedi. Inressioni. Abbiamo i lati. Bene bene. E poi, buttate un pò verso il pietro. Vedete il corpo. E continuate in giù. facendo le gambe sull'arrofe ma lo sentiremo e 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 lo sentiremo anche te facciamo un minuto 30 secondi già fatti e lo sentiremo e io il prossimo non me lo ricordo ehmè Andre wow secondo me questo è il spirito di sopravvivenza non puoi scazzare la figura te lo sei dimenticato perchè è talmente tossito il prossimo ti è stato meglio così il mio suggerimento il mio suggerimento il mio suggerimento granchio eh granchio ah mamma mia che minuto lungo sarà vai allora scendo apre il culo con un po' lucidato e va non farmi trovare impreparato sono partito il secondo prima lo rimpiangerai amaramente e alla fine del minuto ho 61 secondi di questo quello che mi ammazzerà sarà il secondo in più quindi vedi giù mi raccomando durante tutte le posizioni oh i primi 30 minuti 30 minuti apro scelto apro scelto apro scelto e dai mi fai di rinvento al prossimo perché oggi vuoi il prossimo perché così lo mettiamo ad andare però c'è possibile tutto e dovremo portare il mio occhio ma non è tutto il nostro posso ho detto tutto in mezzo tre due uno piedi vedi e vai e si rimette apposta per mettere il mio occhio andiamo un po' più veloce dai che è l'ultimo minuto anche qua attiva bene l'addomino vedi il prossimo video lo voglio fare stile bodybuilding in palestra ve lo dico va bene dai qua così mi rendi sì sì il favore assolutamente preparati perché ritorniamo in sala pesi al prossimo va bene accetto la sfida dai che mancano 30 secondi aumentiamo un po' pochi secondi alla fine stop sarà che sono una schiappa ma li ho sentiti tutti questi 8 minuti bravo bravo ok va bene l'outro l'outro è sempre lo stesso lo conosci benissimo perché la nota a termine dell'allenamento è quella che se vuoi puoi fare più giri del circuito che abbiamo appena finito di far vedere noi ne abbiamo fatto uno solo in camera più altri non mi ricordo se sei 7 8 ma secondo me abbiamo sfiorato anche oggi la decina di giri 9 10 giri off camera giusto per essere pronti e preparati va bene tu fai altrettanto 1 giusto per scaldarti 2 se il tuo livello di allenamento è basso 3 se intermedio 4 se alto se superi il 4 ce lo devi scrivere e soprattutto i miei commenti ti meriti il la nomina di Super Saiyan come sempre come minimo al 4 scatta il ninja al 5 in pioi Super Saiyan esatto va bene questa era la semplicissima nota di fine workout adesso abbiamo da fare tanti tanti anni pubblicità promo allora se non l'hai ancora fatto ti ricordo di iscriverti al nostro canale dove troverai tantissimi video workout ma soprattutto in ogni video workout dovrai poi iscriverci il tuo livello mi raccomando eh ninja Super Saiyan facci sapere siamo molto curiosi e soprattutto se tutto ciò non ti basta perché magari vuoi un allenamento mirato e su misura per i tuoi obiettivi e per le tue esigenze vai sul nostro sito justwellness.co c o senza la m e troverai tutte le informazioni del nostro servizio di allenamento col personal trainer online cosa vuol dire? vuol dire semplicemente che noi personal trainer veniamo ovunque tu sia semplicemente tramite telefono tablet o pc e ti facciamo lezione veramente dove sei al mare, a casa, al parco, dove vuoi tutto su misura per te anzi ti prego portaci al mare con te esatto facci fare un po' di vacanza se la fai anche in montagna ci va bene lo stesso va benissimo anche lì veniamo in vacanza con te esatto non ci resta che salutarti e augurarti buon allenamento ci vediamo al prossimo video ciao da Federica ciao e buon workout Andrea ciao